ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay it a oggi voglio presentarvi una diciamo una nuova rubrica un nuovo format sperimentale per vediamo se avrò la costanza di farlo spesso e soprattutto se piace a voi e che cos'è beh questa è la rubrica non vedo l'ora in pratica dove io vado a spulciare un pochino quella che è la mia lista dei desideri i giochi che io ho scoperto in modo da poter mettere anche a voi la pulce nell'orecchio quindi non mostrarvi un gioco solo quando questo esce ma anche prima in modo che si possa creare questa rete di interazione tra me e voi io vi porto di vi faccio vedere dei giochi che stanno per uscire a me magari sfugge con un gioco uscito me lo dite poi io lo compro allora iniziamo subito col primo molto interessante che è starmancer starmancer è distribuito dagli stessi di starbound di chucklefish e sembra essere un gioco davvero molto molto interessante perché si va a costruire una sorta di stazione spaziale vedete con una grafica che ricorda molto quella di gnomoria ma molto più bella si può andare veramente a customizzare qualsiasi cosa della stazione e noi siamo praticamente abbiamo il ruolo di una potente intelligenza artificiale e qua andremo poi a gestire tutto non si sa ancora quando esce perché è in coming soon però insomma il gioco non sarà in italiano però va bene vedete qua molto carino ci saranno nemici pirati insomma tante cose nulla di innovativo però senz'altro un qualcosa che mi ispira molto anche dal punto di vista grafico e ora passiamo alla creme della creme di questa di questi tre giochi che oggi vi porterò che è little devil inside little devil inside io ringrazio il buon argonaut che me l'ha fatto conoscere perché non è su steam non si sa quando esce pare fosse un gioco caduto nel dimenticatorio poi ripreso in mano si esplora si scopre ci si adatta si combatte e si sopravvive meccaniche survival veramente di ogni tipo ma ho operato questo video per voi direttamente degli sviluppatori dove andiamo a vedere vedete poi la grafica è questa poi ci sono queste componenti ci sarà anche una sorta di copo multiplayer dove potremmo collaborare con altra gente vedete che qua stiamo avanzando un po come l'on far sail se il titolo non lo ricordo sbagliato vedete questa meccanica qui si solcheranno i mari con le tempeste guardate che grafica si sopravviverà si esploreranno luoghi si combatterà scusate vi ho fatto saltare il combattimento vedete che si combatte un po la souls si esploreranno nuovi posti sempre con il nostro mezzo e poi bellissimo questa scena si andrà un po pescare ricorda un po anche wildlands vedete che poi si esplora col mezzo di terra col mezzo sull'acqua non si sa quando esce vi riporto comunque al sito che era nostream.com che è il sito degli sviluppatori e per ultimo space company simulator un simulatore di diciamo nasa insomma una compagnia spaziale in cui potremmo andare a costruire la nostra compagnia a destrare i nostri astronauti avviare le nostre missioni nello spazio un po come si è già fatto in altri in altri giochi però vedete che è assolutamente molto interessante non si sa ancora il prezzo però la cosa positiva è che c'è una data d'uscita prevista tra tre settimane dal momento in cui sto registrando probabilmente il 24 ottobre è la data finale non si sa il prezzo ma è senz'altro un gioco molto molto interessante e tra l'altro tra tutti questi che vi ho mostrato probabilmente sarà l'unico in italiano io spero tanto little devil insider sia in in italiano ma non saprei dire tra l'altro questi sono sviluppatori che hanno fatto anche space cow e altri titoli insomma potete andare poi a a cercarli niente fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova rubrica di questo non vedo l'ora e alla prossima ciao ciao